Nuovo cantiere, altra trivella a Bordolano, dove l'attività della Stogitz non si ferma mai, nemmeno nelle festività più solenni, proseguendo 24 ore su 24, con illuminazione a giorno anche nelle ore notturne, senza schermi alle luci rivolte verso la strada provinciale. In una zona golenale del Parco dell'Oglio Nord, poco prima del ponte in direzione Bordolano-Quinzano, è in corso, da quanto si sa, la chiusura mineraria del Pozzo 9 dello stoccaggio di metano, pozzo profondo, ma non tale da disturbare la qualità dell'acqua del fiume Olio. Lavori che solitamente si compiono estraendo le vecchie tubature, per poi otturare con fanghi o cemento il pozzo, usando anche sostanze chimiche coperte dal segreto industriale. La centrale collegata allo stoccaggio non è ancora entrata in attività. In mancanza del piano di emergenza esterno, malgrado la Stogit abbia già ricevuto l'autorizzazione integrata ambientale. L'industria del gas, però, continua a espandersi a Bordolano, occupando una vasta porzione del territorio, ma senza un effetto occupazionale duraturo. Al termine dei lavori, l'attività funzionerà mediante controllo telematico a distanza, con qualche intervento di una squadra di addetti alla manutenzione. Il paesaggio di Bordolano, dove grandi condutture, trivelle e impianti hanno sostituito l'agricoltura, è ormai uno dei simboli dell'evoluzione dell'economia contemporanea, votata allo sfruttamento intensivo delle risorse naturali. Scarsi le informazioni che trappelano dall'amministrazione comunale. La Regione Lombardia, con la delibera di giunta 5.328 del 20 giugno scorso, ha escluso la ricerca di idrocarburi dalle aree dei parchi regionali, oltre a disporre la verifica sulla microsismicità. Ma il destino di Bordolano sembra già segnato. Stogit ha realizzato quattro nuovi pozzi nel cluster A e cinque nel cluster B e sta chiudendo i vecchi pozzi del Leni, che risalgono agli anni 50.